Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Sono Giada, ho 17 anni e se vi sembro una principessa non avete capito niente. Da fuori ho proprio la faccia da brava ragazza, però poi diciamo che nel mio comportamento non è che ci siano proprio solo aspetti positivi e quindi capita di fare qualcosa di pazzerello qualche volta. Con i miei genitori è un po' un rapporto tira e molla, poi con mio padre non ci parlavo da tipo sei o sette mesi. Il rapporto tra me e Giada potremmo descriverlo così, fino all'ultimo gancio destro è stata una cosa meravigliosa. Io e mio padre abbiamo litigato a dicembre e poi mi ha cacciata di casa. E da lì io non l'ho più visto né sentito. Io l'ho fatto proprio per cercare di dargli uno scrollone, un input a lei diverso, invece ci siamo un pochino distaccati. Conto di ricostruire un rapporto buono con Giada. Giada in questo periodo è un po' un cavallo imbizzarrito. Ho proprio bisogno di un po' di collegio. Assolutamente amore. Mi auguro che riescano dove io ho fallito perché io non ho questo polso di cui secondo me lei ha bisogno. Grazie a tutti.